Davanti al Comune di Chieti gli amici di Beppe Grillo Teate esortano il primo cittadino, questa amministrazione, a non vendere l'acqua di Chieti? Sì, noi chiediamo di non cedere il servizio idrico all'ACA, visto i vari procedimenti in corso che ci sono e visto anche la positività della gestione del Comune stesso. Cosa dovrebbe fare in base alla legge regionale questo Comune? Allora dovrebbe cedere all'ERSI che sarebbe lenta regionale e dopodiché la gestione diretta dovrebbe essere fatta dall'ACA. Visto che l'ACA non gode di buona pubblicità e immagine di questi tempi e in considerazione che tutto sommato a Chieti non è che si paghi tanto la bolletta e il servizio è assolutamente discreto? Il servizio più a Chieti è ottimo, perciò non vogliamo che i cittadini di Chieti vadano a pagare quello che è stato causato da altri. E per evitare che questo accada ci sono altri esempi in questa regione? Certo che ci sono, c'è per esempio il sindaco di Guardia Grele che ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica, proprio perché a Guardia Grele il sindaco Salvi ha notato che comunque, anche a detta di tutti quanti i cittadini, l'erogazione dell'acqua oltre al mancare durante la notte è anche poca pressione durante il giorno. Quindi è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica e quindi si andrà avanti con il procedimento. Quindi noi cittadini possiamo fare, anzi dobbiamo fare qualcosa per impugnare tutto, però ovviamente è dall'alto che tutto deve partire. Noi intanto dal basso ci muoviamo e poi speriamo che il sindaco cerchi di bloccare tutto.